Ed è arrivato dunque anche il tempo dell'epifania che come si sale a tutte le feste la porta via. I presepi tra poco saranno riposti nelle case, però qui in arena potrete ammirarli fino al 24 di gennaio. Intanto della puntata numero 13 di Salute, ben ritrovati, sommario. In questo numero, ULS 20, il direttore generale, ci parla dei progetti per il 2010. 10. Cuore, in sala operatoria all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio per seguire un impianto di pacemaker. Gioco, dalle lotterie alle scommesse, potrebbe portare ad una dipendenza. Asma, a volte può essere causata da allergia. Fumo, le quattro regole per cominciare ad abbandonare il tabacco. Energie, si può risparmiare con le lampadine a basso consumo. Ortopedia, le nuove frontiere della protesica. Specialista, il medico pediatra risponde alle vostre domande. Grazie.